GF VIP, il gesto di signorini per Silvio ricoverato in terapia intensiva, cosa ha fatto? L'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di un'infezione polmonare. Dopo essere stato colpito da un forte affaticamento respiratorio, la situazione è così preoccupante che persino Alfonso Signorini, Amico di Berlusconi, ha deciso di annullare la festa in programma per il suo compleanno a causa delle ultime notizie sulla salute dell'imprenditore. Alla festa erano stati inviati, in diretta televisiva, anche tutti i concorrenti che hanno partecipato al GF VIP da poco concluso. Signorini e Berlusconi sono legati da una forte amicizia e stima, ed è stato il gesto dell'ex presidente del consiglio di stare vicino a Signorini durante il lutto per la morte di sua madre, nel 2011, a cementare il loro rapporto. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, Kika Press Music, Summer from Bensound.com. Leggi anche, Rita dalla Chiesa scrive un post sui social per Silvio Berlusconi, dure critiche. La reazione della conduttrice. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.